Uomini e donne Uomini e donne, Sara e Nicola avvistati insieme, Raffaella Mennoia commenta la foto Raffaella Mennoia interviene per chiarire la posizione di Sara a Fifella di uomini e donne. Nell'ultima registrazione di Uomini e donne sono stati presentate le nuove troniste e il nuovo tronista. Il trono rosa sarà composto, oltre che da Sabrina Ghio, anche Dani Lu Faradati e Sara a Fifella. Proprio in merito a quest'ultima sono sorti numerosi dubbi, più che altro sulla veridicità della stessa Sara. In particolare sul web sta circolando una foto in cui ritrae la nuova tronista in compagnia del suo ex fidanzato Nicola Panico. In foto i due sembrano colloquiare tranquillamente, uno di fronte all'altro, all'interno di un locale. Appena dieci giorni fa, infatti, i due vivevano tranquillamente la loro storia d'amore messa a dura prova all'interno di Tempaton Island. Ieri, invece, la Fifella ha registrato la sua prima puntata da tronista. Ciò va in disaccordo con la foto pubblicata su Instagram dal vicolo delle news che ha insinuato un incontro odierno tra i due ex fidanzati. Prontamente per smentire è intervenuta l'autrice TV Raffaella Mennoia che è una delle persone con cui i tronisti si devono confrontare prima di sedersi sulla sedia rossa. Raffaella Mennoia, a chi insinua un incontro tra Sara Affifella e Nicola Panico, risponde così, Buonasera a tutti. Sara è stata sentita da me personalmente, ora non è con Nicola e questa foto è di qualche tempo fa. . Grazie. Intanto l'autrice invita ad una maggiore attenzione da parte di chi pubblica tali foto alimentando dubbi inutili. Il percorso di Sara non è iniziato nel migliore dei modi, lo stesso Nicola è rimasto spiazzato nel vederla nuovamente al programma televisivo. . I motivi della rottura tra i due erano oscuri, finché non sono stati esplicitati dalla ragazza nel video di presentazione, la nostra storia è finita perché non lo amo più, non sono più innamorata di lui ha affermato. . La nuova tronista dice di essere cambiata e di voler voltare pagina. . Riuscirà ad innamorarsi all'interno del programma?. . . . Sara Fifella e Nicola Panico hanno messo a dura prova il loro amore a Temptation Island. . All'interno del programma Nicola si è avvicinato alla singla Antonella, poi corteggiatrice di Mattia Marciano, e questo ha molto infastidito Sara. . 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